So soltanto che in questi anni della mia gestione ci sono state visite frequenti della Guardia di Finanza alla quale abbiamo messo a disposizione sempre tutto il materiale che ci chiedevano. La cosa mi sorprende per la verità, anche se sono chiaramente mitattrista e mi sorprende, perché in questi tre anni ho lavorato sodo per mettere alto colore nelle condizioni di poter presentarsi di fronte ai soci e alla collettività in modo migliore rispetto a prima. Molti risultati sono stati raggiunti, il salvataggio di alto colore non era una cosa scondata, ci stavamo riuscendo. Questa cosa ci mette un po' i bassoni fra le ruote, però rispetto a quella che decide la legge saremo sicuramente rispettosi, però ci difenderemo. Purtroppo questa cosa ci indispone perché ci crea problemi con i fornitori, con le banche, con tutti i soggetti che poi dovevano collaborare, che stavano collaborando. Noi abbiamo messo al sicuro tante situazioni, insomma, istanze di fallimento da parte di fornitori non ce n'erano più e da parte di altri soggetti nemmeno ce n'erano più, insomma, tutte le transazioni che ho fatto le ho fatte nell'interesse di alto calore, per cui, insomma, pensavo di stare al sicuro. Questa regola che ci c'è in testa, insomma, è un poco pericolosa.